ciao eccoci qui a casa come tutti obbligati a stare a casa quando si lavorava e tutto andava bene non vedevamo l'ora di andare a casa adesso non vediamo l'ora di uscire di casa la situazione è terribile e dobbiamo come sempre trarre il meglio anche dalle situazioni terribili che cosa possiamo fare stando a casa chi ha la fortuna di stare in famiglia vivere di più i rapporti familiari affrontare di più certe incomprensioni magari che sono nate in casa oppure godere di più di certe comprensioni ma altre cose possiamo fare possiamo pensare riflettere su alcune cose che magari correndo correndo dandoci molto da fare non abbiamo avuto il tempo di approfondire e possiamo vedere film noi attori questo facciamo doppiamo interpretiamo in teatro in televisione in cinema ecco magari il teatro in questo momento è un pochino difficile ma il cinema ha questa fortuna di essere un mezzo industriale asettico possiamo guardare film sì è vero ce ne sono troppi sì è vero alcuni sono brutti alcuni sono inutili alcuni anche dannosi ma ce ne sono dei bellissimi e comunque sono film e cioè storie storie che riguardano gli esseri umani riguardano noi tutti beh è un modo per sentirci parte di uno stesso mondo parte di problemi che ci riguardano comunque sempre e allora guardiamoci film e cerchiamo di sentirci vicini uno all'altro perché ce la faremo bisogna soltanto avere forza e pazienza ma passerà 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 passerà